L'Urlo! Siamo a Tenebre! Ringraziamo la nostra pubblica che balla sulla bandiera. Le mani, le mani, le mani! Gran successore con il dottor Dolan Show! Uno, due, tre! E verso le sei suonerò io per chiudere l'ultimo pezzo, lo metto io. Venterò! Luciano Paparotti vincerò! Il prodotto è scritto da La Cupola Eventi. Sabato 27 settembre, vi aspettiamo a Lidonettono. E allora io direi ai ragazzi che sono dietro il palco di scendere dal palco, grazie. Ma anche qua davanti ragazzi, per favore. Ragazzi scendete dal palco, ragazzi. E le bevate, le bifide qui accanto, al chiusco. Questo è l'ultimo pezzo di... Dario Trappa rimetterà l'ultimo perché... Dei fare molta strada, domani parte la sua tournée. Si troverà domani a Milano. Per presentare il disco Ice Baby! Preparati Rocco! Rocco mi raccomando eh! Facci sognare! Facci sognare! Poi dopo di Rocco, Frank Ryan! E poi Jeffrey Rosebrix! E la grande chiusura è aperta dal mitico, pulce sentuto, DJ Scuolo! Si suona finale 6 del Natino! Dario Trappa rimetterà! Martimico! Le percussioni sono sempre a noi! Un'unica persona, Alex M! Rocco! Domenico! 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 V Kadri e Gruone! Domenico! di contare su di voi la prossima volta però, visto che sia l'ultima giornata, datemi un voto il signore qualcuno glielo deve far piacere lo dico qui in diretta perchè è una cosa che porto dentro votatevi la prossima volta 6.000 voti signori ascendete gli accenditi